ciao ti è capitato di dire esco voglio conoscere persone nuove caro spirito eterno vai incontrare altri reincarnati come te perché chi viene dal mondo spirituale siamo a vaiculta che vuol dire senza ansietà da lì siamo venuti e lì torneremo ma uno come fa a tornare al mondo spirituale si chiama appunto vai punta senza ansietà liberati dall'ansietà e risveglierai il tuo livello di coscienza e ti ritrovi là dove hai sempre vissuto allo stato disincarnato ma conosce persone ma sono nuove quello il punto le persone che incori sono nuove o riflettono una parte di te c'è l'effetto specchio l'effetto risonanza quindi non sono completamente nuove cioè il gatto cerca la gatta quindi ognuno io ho visto che molti cerco non l'anima gemella perché sta parola quante volte non c'è ma io ho visto anche i gemelli non sono uguali figuriamoci le anime eterne noi siamo unici unici spiriti eterni unici irripetibili tutti diversi cerchiamo il punto di incontro il punto di contatto per usare la parola moderna cerchiamo un livello di compatibilità cerchiamo di fare un pezzo di strada insieme c'era una volta il modo di dire dove per capirsi dicevano mettiti nei miei panni invece nelle gnavi d'america e prova a camminare per un po con le mie scarpe cioè fai lo stesso cammino più o meno no io dico impariamo a conoscerci ogni persona chiunque ogni persona che incontriamo ha un messaggio per te cioè per ognuno di noi quindi ogni persona che incontro ha un messaggio per me e ogni persona che incontro io ho un messaggio per lui cioè reciproco cioè io ho un messaggio per te tu ce l'hai per me anzi se ce l'hai proprio che non me lo vuoi scrivere io lo leggo pure il messaggio quindi conoscere persone nuove forse anche riconoscere non so se ti è mai capitato di incontrare o frequentare per un po qualcuno e pensare mai questo qui è come se lo conoscessi da sempre una volta dice l'amica del cuore l'amico del cuore è come un fratello no c'è tante frasi ma forse c'eramo già frequentati un po in qualche incarnazione precedente quindi c'è come un riconoscimento allora conoscere persone nuove spesso è un riconoscere persone che nuove non sono solo che sono cambiati i ruoli due amanti inseparabili magari rinascono gemelli due parenti fratelli o sorella magari uno muore molto tempo prima rinasce genitore figlio molti genitori e figli che volevano un po di libertà rinascono vicini di casa si frequentano però ognuno a casa sua eh allora riflettiamo chi conosce se stesso conosce l'universo chi conosce se stesso risveglia il potere di riconoscere quindi il titolo conosce persone nuove è vai a vedere visto che il caso non esiste se non stai riconoscendo qualcuno che conoscevi già vuoi uscire adesso andare a vedere guarda nel condominio in famiglia al bar nel lavoro nei viaggi negli incontri negli autobus nei treni spesso noterai che qualcuno al di là della bellezza fisica al di là del vestiario al di là di tanti fenomeni che prendono l'attenzione c'è qualcosa che richiama magnetico una specie di piccola calamita perché non sono persone nuove quelle che uno è tentato di chiamare una persona nuova ci siamo capiti sin dalla prima volta allora bisognerebbe dire ci siamo ricapiti ci siamo riconosciuti provate come gioco di parole però che non è proprio gioco di parole stupido se domani o incontrate qualcuno che vi sembra già conosciuto provate a dire ridendo ciao scusa ma dove eravamo rimasti come dove eravamo rimasti no beh mi sembra che come se ci fosse un incontro un appuntamento ecco e se quello dice ma mi sembra anche a me allora parliamo allora dove eravamo rimasti c'è la tendenza quando qualcuno sta per morire malati terminali di andare a fare il saluto è meglio farlo quando uno è ancora senziente noi aveva fare un saluto alla bara molti mi toccano la bar ma tocca quello che è vivo cioè finché è vivo no e digli come ci siamo incontrati ci rincontreremo o da disincarnati o nuovamente incarnati perché ognuno non fa altro che cercare il punto di incontro in persone compatibili con il suo livello di coscienza con il suo stile di vita con il suo modo di essere quindi buona ricerca e buon riconoscimento